Intanto, vecchi cuori bianconeri, rispetto a ieri abbiamo due ufficialità per la Juventus, perché Cambiaso rinnova, rinnova fino al 2029 e sarà un rinnovo di contratto importante, è un rinnovo di contratto importante perché dopo una stagione come quella che ha appena disputato Cambiaso in bianconero era necessario veramente blindare questo giocatore e resistere a quelli che potevano essere potenzialmente degli attacchi. Durante tutto l'anno si è parlato anche di interessamento di squadre di un certo livello come il Real Madrid, poi non sarebbe nemmeno la prima volta nel calcio, ho visto anche dei giocatori andarsene dopo dei rinnovi o sembrare blindati e poi andare via qualche anno dopo, l'anno scorso per dire Leao rinnova con il Milan e quest'anno si parla già di un Leao che può finire sul mercato, può interessare a diversi club eccetera eccetera. Sarei stupito di vedere Cambiaso via dalla Juventus nel breve periodo, quindi godiamoci questa permanenza del nostro esterno italiano che veramente quest'anno ha fatto una gran stagione, che oggi non potrà giocare perché è squalificato e quindi lascerà spazio a qualche altro suo compagno. C'era un nuovo di contratto anche di Daniele Rugani che invece oggi parte titolare e diventa una vera e propria bandiera della Juventus e del Daniele Rugani con questo rinnovo perché andava in scadenza, Rugani è sempre stato quel giocatore che vedevi nella rosa della Juve come un più uno praticamente, vado a memoria ma dovrebbe essere l'ottavo anno di Rugani in bianco nero, beh ci saranno altre stagioni da vivere insieme alla vecchia signora per Daniele che è sempre stato secondo me un grande lusso da avere come quarto o quinto addirittura a volte centrale difensivo ma che aveva una grande pecca e cioè uno stipendio molto elevato per quello che era il ruolo che doveva ricoprire. Rugani va a rinnovare a ribasso, complice le età anagrafica che ormai inizia a salire e Daniele mi dispiace perché io ho addirittura due anni in più di te quindi sono pure più vecchio e anche ovviamente la volontà della Juventus di ridurre il monte in gaggi. Due rinnovi di contratti importanti per due giocatori che comunque in questa stagione hanno fatto il loro, ne abbiamo parlato anche all'interno di quella che è stata la tier list della Juventus, del pagellone della stagione della Juventus e quindi due rinnovi di contratto che la Juve si porta a casa sono molto molto importanti. Ieri sera Tiago Motta ha giocato la sua ultima partita da allenatore del Bologna, l'ha giocata tra l'altro a Genova contro il Genoa, sua ex squadra, quindi le ultime due squadre di Tiago Motta sono state il suo passato da calciatore e da allenatore in Italia, quello che probabilmente sarà il suo futuro da allenatore, quindi la Juventus anche questi collegamenti del destino così come Palladino che è un ex Juve che inizia in Serie A contro la Juve, finisce al Monza contro la Juve, cioè sono tutte quelle cose che si incastrano un po' tutta la perfezione e mi fa venire la pelle d'oca. Mi ha fatto venire la pelle d'oca anche il fatto di essermi addormentato ieri sera durante la partita, mi sono guardato Genoa Bologna sul tablet, mi sono messo a letto sul tablet a guardare Genoa Bologna e gli ultimi dieci minuti li ho dormiti, gli ultimi quindici, una roba del genere, forse anche venti, forse anche venti. Mi sono sentito terribilmente vecchio, dato che prima parlavamo del rinnovo di Rugani e poi mi sono svegliato al termine della partita, ho spento il tablet e ho acceso Netflix semplicemente sulla televisione perché in quel momento invece non avevo più sonno, questo è un po' diventato la mia vita a 32 anni, molto bene, non volevo dirvelo ma mi vergogno un po' di questa cosa, però dovevo andare a letto presto perché adesso parto direzione Torino, vado all'Alliance, quindi ci vediamo oggi all'Alliance per qualche chiacchiera, una birretta magari davanti allo stadio prima di andare a vedere Juventus-Monza che sarà l'ultima partita dell'anno che andrà a concludere questa stagione anche un pochino travagliata dal punto di vista sportivo. Tiago Motta sarà con ogni probabilità il nostro nuovo allenatore e appunto da ieri è privo di una panchina, ha portato il Bologna in Champions ma non finisce qui perché la Juventus vincendo oggi andrebbe a guadagnarsi anche la terza posizione, quindi abbiamo un obiettivo vero e proprio cioè consolidare quella che è una classifica di Serie A che deve vederci il più alto possibile nella graduatoria finale, arrivare quarti o non lo so, non sarebbe proprio il massimo, cerchiamo di vincere oggi per riavvicinarci un po' di più al Milan e scavalcare il Bologna, lasciare dietro il Bologna, sarebbe importante anche proprio come moto d'orgoglio, anche per Montero stesso che andrebbe a fare la sua prima vittoria d'allenatore in Serie A, andrebbe a vincere di fronte alla sua gente, al suo pubblico, secondo me oggi sarà una bella giornata allo Stadium per salutare Montero, per ringraziarlo per queste due partite un po' così, per ringraziare la squadra per la Coppa Italia vinta, doveva essere la giornata in cui si salutava Max Allegri e si salutava la vincitore della Coppa Italia, non sarà così, sarà la giornata in cui saluteremo diversi giocatori anche, perché alcuni vanno in scadenza, Rabiot non convocato per via di un affaticamento, è in scadenza di contratto, potrebbe aver terminato a Bologna la sua carriera con la maglia da Juventus, vedremo se ci sarà un rinnovo oppure no, Perin, dato che ieri si sono fortificate, possiamo dire così, sono aumentate le voci che vorrebbero di Gregorio alla Juventus l'anno prossimo e quindi adesso la scelta è capire, esce Perin o esce Szczesny, sarei stupito di vedere Szczesny partire, quindi mi sembra più facile vedere Perin in uscita e dovrebbe essere l'ultima partita di Perin con la maglia della Juventus, anche lui partirà titolare e c'è Alexandro, c'è Alexandro, anche lui partirà titolare e vi dico una cosa, oggi Alexandro con la presenza 327 andrà ad eguagliare quello che è stato il record di Pavel Nedved di straniero con più presenza nella storia della Juventus, non andrà a superarlo, andrà ad eguagliarlo, Alexandro e Nedved allineati sulla stessa casellina, entrambi primi a pari merito, ora per me Pavel è stato fondamentale, Pavel per me è un giocatore indimenticabile, io ero allo stadio il giorno del suo addio, 2-0 alla Lazio, Vincenzo Iaquinta, Vincenzo Iaquinta, è stata una giornata commovente ed è stata una giornata indimenticabile come è stato indimenticabile Pavel Nedved, anche per il 2006, tutto quello che si è portato dietro e quello che è stato anche fuori dal campo per la Juve, quindi vi dico, mi dispiacerebbe, anzi mi sarebbe dispiaciuto vederlo scippato di questo riconoscimento. Alexandro lo eguaglia, entrambi sono lo straniero con più presenza nella storia della Juve, a me va benissimo così e anzi mi auguro che possa essere riservato anche un saluto come merita Alexandro oggi, perché al di là di tutti i meme che abbiamo creato nel tempo eccetera eccetera, Alexandro per forza di cose si definisce da solo con questo record, è stato un giocatore importantissimo per la Juve, a maggior ragione nella sua prima parte di carriera, ultimamente non è più un giocatore di livello accettabile per essere un titolare della Juve, e questo lo sappiamo, lo abbiamo visto, ma questo non significa che il giocatore vada odiato, detestato o altro, un film che si scherza, un conto, ma poi quando saluta un pezzo di storia della Juve, perché a tutti gli effetti è Alexandro, è un pezzo di storia della Juve, volenti o nolenti, io credo che oggi sarebbe bello da parte lo stadio tributare un saluto a un giocatore che ha fatto tante presenze con la nostra maglia, ha conquistato tanti trofei e ha avuto anche dei momenti di alto e basso clamoroso con noi, quindi questa è un po' la mia lettura su Alexandro, fatemi sapere se siete d'accordo nei commenti oppure no. Probabile formazione Juventus che va col tridente, attenzione perché oggi alla fine Montero ci lascia il dolcetto finale, però è una formazione che mi preoccupa, devo dirvi la verità, perché secondo Giovanni Albanese la propria formazione sarà Perin, Danilo, Rugani e Alexandro per formare questa difesa 3, UEA e Eiling sulle corsie e poi sarà un centrocampo 2 composto da Fagioli e Alcaraz e un tridente composto da Chiesa, Milik e Ildis. Ora, 3-4-2-1, che devo dirvi la verità, io non sono amante della difesa 3 ma il 3-4-2-1 è un modulo che mi gasa tantissimo, 3-5-2 un po' a stancato, 3-4-2-1 mi gasa tantissimo, maggior ragione con Chiesa e Ildis larghi una da parte una dall'altra, Eiling e UEA, quindi sugli esterni la Juventus oggi se la dovrebbe giocare abbastanza bene in una partita a specchio perché comunque il Monza gioca meno male con quelle caratteristiche. Non gioca Bremer, gioca Rugani al suo posto, non gioca Gatti, gioca Alexandro al suo posto, Danilo torna sul centro-destra e dato che ieri parlavamo anche un po' di Terzini lato Juve, attenzione perché nelle ultime ore si è parlato di un Di Lorenzo che potrebbe lasciare Napoli e Giuntoli lo conosce molto bene, c'è un bel rapporto che sa che non possa diventare un difensore che viene da Napoli con il 2 sulla maglia, che ha vinto uno scudetto proprio a Napoli e che possa andare a fare un po' la storia della Juve. L'ultimo è stato Ciro Ferrara che ha fatto un'esperienza, una storia del genere, vediamo se questi incastri potrebbero essere anche interessanti lato Juve. Mi preoccupa un po' la mediana 2 composta da Fagioli e Alcaraz, devo dirvi la verità, perché sono due giocatori molto offensivi, io li vedo anche forse sulla tre quarti, entrambi potrebbero giocare sulla tre quarti, quindi non vedo quel filtro davanti alla difesa o comunque un giocatore fisico in grado di recuperare palloni, un giocatore muscolare. Ieri vi parlavo di Ederson, ecco Ederson di fianco a Fagioli al posto di Alcaraz per me sarebbe l'ideale. Allo stesso Locatelli, secondo me, un centrocampo 2 può assolutamente giocare in quella posizione, anzi credo che quello sia il suo modo ideale di giocare a calcio. Locatelli che ha tra l'altro perso la qualificazione all'europeo, anche Alcaraz potrebbe essere tra l'altro banalmente la sua ultima presenza con la maglia della Juve. Il tridente Migasa sì, grande sì, perché finalmente, poi vedremo, magari è anche Chiesa, magari è anche Chiesa la sua ultima partita con la maglia della Juve, noi non lo sappiamo. È una formazione strana, particolare, che un po' mi fa paura perché mi sembra altamente squilibrata, però Montero credo che faccia bene a sperimentare, a vedere un po' di dare il suo calcio a questa squadra che ha avuto in mano per più di un allenamento come era successo la settimana scorsa. Oggi sarebbe bello vincerla, chiuderla questa stagione, questa annata, un po' così, salutare tanti protagonisti, ma soprattutto parlo anche in maniera un po' egoistica, cercare di invertire questa tendenza. È terminato l'Allegribis, è stato un bottino avaro di emozioni per quanto mi riguarda con le mie presenze allo stadio, in tante partite, tra tanti pareggi e tante sconfitte, anche in finale di Coppa o eliminazioni in Champions, mi porto a casa soltanto due vittorie in questo Allegribis, tra l'altro entrambi in Champions, 1-0 di Moise Ken contro il Malmo, l'8 di dicembre con la neve alta così a Torino, che raggiungere Torino è stata veramente un'impresa, in seconda battuta il 3-1 al Maccabi, con la doppietta di Rabiu e la tripletta di assist di Di Maria dell'anno scorso in Champions, quindi quella tra l'altro è l'ultima vittoria della Juventus in Champions, e io l'ho vista dal vivo, sono state poche emozioni per me dal ritorno di Allegri, quindi l'Allegribis è finito, cerchiamo di invertire questa tendenza, aprire una nuova pagina anche di mia presenza allo stadio, vediamo se è finita questa piccola maledizione che mi sono portato dietro in questi anni, è la mia terza presenza a vederla a Juventus quest'anno, la prima abbiamo perso 4-2 con il Sassuolo, l'altra abbiamo fatto 0-0 con il Genoa, una sconfitta, un pareggio, ma anche una vittoria per andare veramente in crescendo. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo oggi a Torino, e forza Juve!